Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Alessandra e oggi parliamo di Arance d'Inverno, di Marie Sexton Edito Trischa e le edizioni che ringrazio per la copia digitale Bene, prima di iniziare con una brevissima introduzione di trama, io vi invito a seguirmi qui, seguirmi su tutti i vari social che trovate qui in descrizione E di attivare la campanellina, soprattutto quella Bene, detto ciò, da adesso in poi vedrete qui sopra, qui, 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 non lo so, l'immagine di copertina del libro Molto molto carina E adesso parliamo subito di che cosa parla effettivamente di Arance d'Inverno, una magica storia d'amore Il nostro protagonista si chiama Jason Walker e lui era un ex attore di Hollywood Dico ex perché ormai la sua carriera è arrivata alla fine, decide di cambiare casa e di andarsi a isolare completamente dal mondo E all'inizio se ne va insieme al suo migliore amico di cui è lui, è segretamente innamorato In questa nuova casa, apparentemente normale, riesce a vedere, mentre fa una cosa abbastanza imbarazzante, una persona dentro al garage, a una stanza insomma E dice, ma l'ho visto tanto io? E a quanto pare lo riesce a vedere soltanto lui E di chi si tratta? Si tratta di un ragazzo che apparentemente vive dentro a una sorta di palla di neve Ed è lì incastrato dalla guerra civile E voi direte, ma che è sta roba? Effettivamente anch'io l'ho trovata molto originale, molto particolare E ho detto subito, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? E ho detto, mi sembra un po' stranissima, un po' strana questa situazione, ma che cosa sta succedendo? Ebbene, e quindi sembra una storia abbastanza fantastica Fantasy forse Diciamo che l'autrice ha deciso di inserirci questa nota fantasy, un po' fantastica Forse per smorzare un po' e dare un tocco di originalità Diciamo che la storia potrebbe sembrare anche un racconto natalizio Visto che si tratta di una palla di neve Però non lo è Diciamo che è ben appunto il nostro, come posso dire, prigioniero nella bolla, nella palla di neve E lì sotto forma di incantesimo Da un sacco di tempo per non farlo andare in guerra durante appunto la guerra civile E sembrerebbe che Jason sia l'unica persona che effettivamente lo riesce a vedere E riesce poi successivamente a capire come poterci parlare E diciamo che sia ben che Jason sono contenti Il problema è che i paparazzi riescono a intercettare e trovare Jason Gli fanno alcune foto in maniera compromettente mentre parla da solo, nel parco o in giro per casa Il miglior amico lo reputa pazzo E diciamo che la situazione non va di certo a suo favore Anzi peggiora soltanto tutta quanta la situazione in cui stava già vivendo E questo però non frena comunque la voglia di parlare con Ben Di stargli con lui Anche perché Ben sembra ossessionato praticamente dei film anni 80 E visto che Jason era un ex attore praticamente di Hollywood Aveva fatto un film del genere che poteva piacere appunto a Ben Decide poi di fargli fare una sorta di maratona per tenerlo occupato Visto che all'inizio non riusciva per niente a parlare Poi successivamente ha iniziato a capire come fare Però stare fuori dalla palla di neve effettivamente gli comportava uno sforzo non indifferente Quindi poi che cosa succede? Ovviamente ci si affeziona a questa persona Sia da parte di Jason sia da parte di Ben E scatta anche qualcosa Soltanto che si è sempre un po' sul chi va là Perché appunto non possono toccarsi Non possono vivere quello che vogliono E quindi sono un po' costretti a farlo per conto proprio Diciamo però immaginando che sia l'altro a toccarsi E questa situazione un po' di storia Questa storia d'amore prende piede Va sempre più avanti Tutti quanti lo credono pazzo Però poi alla fine devono ricredersi Perché grazie a un'incisione A un modo appunto per cancellare l'incantesimo Jason riesce a capire come fare E appunto Ben ritorna Allora Fatto questo recap di trama Posso dirvi che il libro Io all'inizio lo stavo un po' snobbando Nel senso che l'avevo iniziato Mi stava prendendo sì Ma c'era qualcosa che mi diceva Non c'è niente di particolare Non ero nel modo giusto per leggerlo Successivamente ho deciso di leggerlo Dopo un paio di settimane Diciamo da quando l'avevo ricevuto E ho ricominciato la lettura Non l'ho continuata Ho ripreso dalle prime pagine Mi sono messa lì Vi dico che l'ho finito in un pomeriggio L'ho finito in un pomeriggio Anche perché sono 243 pagine Ho ripreso il Kindle perché non me lo ricordo E calcolando ovviamente dal Kindle Sono 250 pagine scarse Con una scrittura molto molto piacevole Veloce Frizzante A tratti anche un po' erotica Quindi se vi piacciono anche i BL Comunque i Boss Love Ci sta E quindi a tema anche LGBT Quindi vi consiglierei anche la lettura Se vi piace appunto il genere Che ultimamente vedo un po' ovunque Quindi magari può essere una lettura alternativa Ai soliti titoli che vi vengono consigliati Bene Che altro dire insomma La storia di per sé è molto originale Il fattore di inserire nella fantasy Della fantascienza diciamo all'interno Non fa che coinvolgere una cerca un po' più alta Ampia di lettori Perché per esempio Se fosse trattato tanto di un romance Forse qualcosa non l'avrei apprezzata Invece trattandosi anche di un fantasy Diciamo con questa sorta di mistero Come fare ad aprire la palla Diciamo che Un po' più curiosa E incuriosisce maggiormente Di conseguenza si è più portati Alla lettura Differente invece era la questione Di un amore E basta Insomma anche perché poi c'era la situazione Che lui era innamorato del suo migliore amico Alcune situazioni che fanno riflettere Del comportamento del migliore amico Quasi approfittandosene Dell'amore che provava nei suoi confronti A farsi fare determinate cose Diciamo che tutto sommato L'insieme della storia appunto Comporta L'assemblamento di vari passaggi Di varie situazioni Che non fanno altro che Che piacere comunque Perché convolgono Che ti fanno emozionare Ci sono state alcune parti Qui magari una piccola litigata Oppure il Ben che non stava bene Nella sua casa Oppure lui che riesce ad andare da lui Cioè diciamo che ci sono delle situazioni Un po' particolari Che piacciono Che ti fanno un po' battere il cuore Ecco è qualcosa di totalmente diverso Non si tratta del solito romance Non si tratta del solito spicy Non si tratta di niente Di già letto Almeno da parte mia Poi so che comunque L'autrice non ha scritto soltanto questo Ne ha scritto gli altri Quindi magari Proverò anche a recuperarli Perché la sua penna Effettivamente mi piace È molto 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 semplice Molto molto convolgente Quindi ad essere sincera Perché no Ad acquistare altri volumi Io questa era più una prova Ecco Se potesse piacermi o meno Perché non mi ero mai Avvicinata al genere E poi soprattutto Volevo portare Un qualcosa di diverso Nel canale E anche sulla mia pagina Instagram Ed era la giusta occasione Anche di dar voce Alle piccole realtà editoriali Che seguo con molto piacere Quindi perché no Adesso che ho avuto la prova Che magari C'è questa autrice Che è molto molto portata Sicuramente acquisterò altro Quindi Ci sta Ci sta Però ecco È un libro totalmente diverso Qualcosa di nuovo Di particolare E secondo me Non va persa l'occasione Di leggerlo Bene Detto ciò Anche questa recensione È stata molto molto breve E intensa Spero che vi sia piaciuta Non dimenticatevi Di lasciare un like Ditemi se avete mai letto Qualcosa dell'autrice O se avete mai letto Qualcosa della casa editrice Oppure Avete letto proprio questo libro E ditemi cosa ne pensate Io vi aspetto su Instagram E alla prossima Ciao